Il tuo consulente Agrometeo ti dà il benvenuto su Angro Notizia, il tempo previsto per questo fine settimana, ossia venerdì 29 e sabato 30, domenica 1 dicembre. Bene, dopo la perturbazione giunta nella giornata di mercoledì, il tempo tende a migliorare con qualche ultimo strascico nella giornata di venerdì sulle regioni tirreniche, poi un sabato col bel tempo e infine una domenica invece con un forte peggioramento, una perturbazione che resisterà sull'Italia per 5 giorni, addirittura portando eventi anche di notevole intensità. Ma andiamo a vedere questo fine settimana, venerdì isolate, residui e piogge sulle regioni tirreniche, bello il trovo e qualche banco di nebbia in Lombardia. Sabato bello su tutta l'Italia, nebbie però, attenzione soprattutto sulla Lombardia e sull'Emilia Romagna, domenica invece ritorna, arrivano nuova intensa perturbazione, estesa addirittura dalla Francia fino al sud della Spagna, una perturbazione che insisterà sull'Italia per 5 giorni e quindi domenica peggiora sul nord Italia, eccetera l'Emilia Romagna, peggiora anche sulla Toscana, piogge forti su Lombardia, Emilia, temporali forti sulla Liguria, forte scirocco sulle regioni adriatiche e tirrene. Le temperature saranno venerdì e sabato intorno a 12-14 gradi al nord, quindi 17 al centro, 18-20 al sud e sulle isole maggiori, ma poi domenica caleranno al nord, tant'è che sulle regioni di nord ovest e le massime si porteranno tra 7 e 9 gradi. Ebbene termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giulianci, dal pulsante sottostante può visualizzare le previsioni di gas attuali.